Però veramente stasera Eldering ha dimostrato parecchio i suoi difetti, perché non dico tanto a livello di danni, onestamente è molto soggettiva, anche seppur io ho trovato un paio di robe che potevano far pure leggermente di meno. Capisco che c'è la cosa del devi esplorare, trovare i pezzettini perché così ti potenzia e tutto quanto, però ogni tanto ci sono dei momenti veramente stronzi, inutilmente stronzi, cioè appunto come l'uccellino che abbiamo affrontato stasera che non mi metti soltanto un boss che è uno dei più fastidiosi perché ti fa mirare la testolina, ma la testolina fa tutti quei movimenti. No, no, lo circondi pure da piccioni che non c'hanno neanche il danno ridotto, c'hanno il danno spammato. Il momento in cui io mentre sto affrontando sto coso mi arriva una fiamma che mi toglie tre quarti di vita con le resistenze aumentate dall'albero e tutto quanto. La difficoltà è diversa dalle hitbox fatte col culo, esatto, e poi si entra in questo discorso, è che ci stanno tantissime cose di questo tipo che sono fastidiose. Cioè io non posso dover affrontare, non dico due terzi, però un terzo dei boss o dei nemici senza lock perché tu non sai farmi una telecamera. Cioè io mentre affronto il boss, il boss non è che se appena mi si avvicina tanto così io gli sto guardando il sottopalla. Cioè io penso che quello sia stato veramente la telecamera più de merda che ho visto per adesso nel DLC. Letteralmente lui che te si avvicina e la telecamera gli va sotto e quello ti forza ovviamente ad affrontarli senza telecamera. Io il leone l'ho affrontato senza telecamera e c'ha tantissime aperture e cose per entrare. L'ippopotamo senza telecamera, quell'uccello di merda senza telecamera. Però ripeto, non è una cosa che va bene, non è una cosa che va bene. Io ho visto tante persone che in tanti punti stanno usannando il DLC del The Ring e da una parte sono anch'io d'accordo perché il DLC per adesso mi sta divertendo tantissimo. È bello e c'ha tante cose, però c'ha tanti anche problemi. Cioè la gente tende a chiudere troppo gli occhi. In un gioco un action GDR la telecamera non può essere fatta così. Finché dici la difficoltà e tutto quanto è soggettivo, ok. Però tu metti la telecamera, le hitbox fatte col culo perché pure le hitbox, cioè io mentre sto a fronte a quel piccione, tu mi metti una roba che mi deflagra la vita, che mi fa il congelamento e che mi distrugge. Tu mi devi far capire bene dove cazzo sta quell'hitbox. Perché io appunto venivo deflagrato perché c'era sto effetto, c'era qua sotto il fogarellino appena piena, dice no guarda però quella è un hitbox piena. E no, e non va bene. Però proprio ci stanno anche dei problemi a livello di core. Non è possibile che appena io affronto un nemico grosso non capisco più un cazzo. Perché l'ippopotamo poi pure, vedi, quello era figo. Era pure facile da leggere perché sono tre animazioni del cazzo, ma pure quella carica che ti fa è una cazzata. Ma rimane sempre il fatto che poi, perché il mio puntatore fa questo. Balla la breakdance, io non capisco un cazzo o schifo de merda. Io faccio sempre l'esempio parallelo con Midir. Perché Midir e tutti dicono il boss è uno dei boss più difficili. Perché Midir c'è il problema che essendo grosso come una chiesa, letteralmente, tu miri la sua testolina, ma la sua testolina che cosa ti fa? Ti fa che se lui si fa un qualsiasi attacco, va a fanculo con la testa a sinistra. Non è che il personaggio è strutturato che però mantiene la difesa davanti. No, il personaggio fa letteralmente con lo scudo e dall'altra parte. Quindi ti arriva una pizza che non pare. E non hai fatto il boss finale che ti riempie lo schifo di effetti particellari che non fanno vedere nulla. Ma guarda, ma quello secondo me sarà il meno paragone. Perché il fatto è che nei soldi è sempre quella cosa. Vedi tutte le esplosioni atomiche, quelli fai cerchio, quello ci rolli dentro. È come il leone che fa tutto quel sifone di roba, che quello in realtà ti sembra, cazzo non ci capisco niente, quella è un'apertura. Perché molte volte quando lui fa quella roba così, tu schivi letteralmente attraverso e gli puoi andare a tirare due o tre colpi. Però devo capirlo. Si torna al discorso della telecamera. Io devo capirlo. Devo capirci qualche cazzo in mezzo a quell'animazione, perché se no è tutto niente. Da una parte, nell'ambito di quella cosa della difficoltà del DLC, apprezzo l'idea che hanno avuto per i frammenti d'albero. Perché hanno cercato di dire, ok, ma metti caso che le persone non lo comprano. Come possiamo bilanciare il DLC all'interno del gioco? Mettiamo una sorta di sistema di scaling che è totalmente separato e che va con quello. E ok. E posso anche capire che all'inizio magari sia un po' più ripido, perché devi cominciare a trovare. Però io ricordo che ho un personaggio che ha 50 a vigore e ha le difese spammate. Non indosserò le armature, quelle ultra pesanti che ti danno le difese della madonna. Però è preoccupante. Cioè vuol dire che un mago viene one tappato. Cioè vuol dire che una classe su destrezza un po' più leggera viene one tappata. Io mi diverto a esplorare, trovare il modo di affrontare un boss, anche semplificarmi la vita. Però tu a un certo punto, facendo così, forzi il giocatore. Perché io ho la spada con il sanguinamento? Perché se io ho contro un boss che ha 100k di vita e me bisciotta, o se me gira male, me sciotta, io devo potergli fare del danno. Dopo che io mi sono fatto tutto il giro di questa zona, vado magari da una rellana con l'albero al 7. Nella seconda fase rellana me bisciottava. Perché c'aveva le spade inciantate, aveva già bom bom, secco. Io devo poter controbattere in qualche modo. E quindi vai a infilarti in quelle situazioni. Questo spezzone non lo carichi, se no... No, probabilmente lo caricherò Paragone. Non me ne frega niente, lo carico. Perché io ripeto, io sono mega appassionato dei souls. Io ho fatto delle run challenge. Mi sono fatto Bloodborne a livello 4. Ho fatto le mie cose. E quando vedo le persone che ci sono dei palesi problemi, e dicono no, no, get good. Get good un cazzo. Se è fatto col culo, è fatto col culo. Come dissi anche per semplicemente la coop. Che cazzo vuol dire che in un open world, in un open world, io arrivo davanti a un dungeon e devo fare no, amico, devi andartene nel tuo mondo, lasciare qua col cavallo, entrare e mi devi rimettere il simbolo. Cioè, sono proprio quelle cose che sono puttanate e la gente ci scherza su dicendo eh beh, è from software con la telecamera. Non va bene. Non è una cosa positiva, eh. Io immagino subito le persone che ti fanno ah, madonna, si lamenta la difficoltà. Raga, io non mi sto lamentando la difficoltà. Perché a me, avere contro un boss come Bale, che me sciotta, pure che me tira due pizze e me spa, a me mi intriga quella roba. Però non deve diventare, poi non deve scaturire nel ti devo infilare un palletto in culo perché sì. Perché io Bale, ripeto, l'ho fatto fresh try probabilmente, perché l'ho affrontato senza lock. Perché Bale pure, con lock, è un altro cancro, che non ti fa capire niente, perché starà sempre a fare qualcosa con quella capocetta e tu loccherai sempre su quella capocetta. Quindi vai a capirci qualcosa in mezzo a quella roba, eh. Per questo io ho amato Rellana. Perché Rellana, pure là c'è la telecamera che ogni tanto sbarellava. Però Rellana è della tua stessa taglia ed è una delle fight più belle per adesso. Perché è letteralmente una fottuta danza dove tu fai botta e risposta, botta e risposta, pure quella in alcuni casi un po' troppo punitiva. Probabilmente sì. Però quello va molto anche su come si è fatti, come si sta messi nella build e compagnia. Però Rellana veramente, per adesso, è il miglior boss del DLC. Vabbè che ne ho affrontati un cazzo. Sicuramente sarà molto di più il bello che il brutto. Però ci sono dei problemi che non so così banali. È che se va sempre a finire le stesse cazzate e mi dispiace. Io ho sentito tante puttanate su Elden Ring e io stesso dico che sono puttanate. Però mi dispiace che in sti cazzo di 15 anni stiamo sempre a parlare delle stesse cose. In ambito dei problemi noi parliamo sempre 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 da stessa cosa. E da delegamera. E che c'hanno il tracking fino a dentro al buco del culo. E quelle altre robettine. E il fatto che Nerdy e le cite deve per forza di cosa sbrega tutto. Che due coglioni. Cioè che due coglioni. A un certo punto semplicemente fai spallucce e dici vabbè che merdata. Non lo sanno fare non c'è spiegazione sì sì è come con la coop. Io lo sapete perché caccio sempre fuori sto discorso della coop perché quando parlai della seamless coop la gente mi inondò di merda dicendo no ma perché se Miyazaki ha teso la coop in questo modo c'è un significato di lore no è una merda e basta. Se nei souls c'era il tempo è distorto quindi evochi qualcuno che passa da là col tempo e tutta quella ok. In Elden Ring e soprattutto che è un open world non c'ha senso. Infatti hanno aggiornato la seamless coop ragazzi potete giocare di DLC con la seamless.